Il girone di ritorno del Sassuolo si apre con una trasferta dir poco complicata. I neroverdi, raduci dalla vittoria contro la Fiorentina, domani andranno a far visita alla Juventus. All'andata al M-Pay Stadium finì con un sorprendente 4-2 per il Sassuolo. Ora mister Dionisi si aspetta una gara diversa. Premesso che non affrontiamo la stessa Juve per due motivi. Uno perché ora è molto più consapevole, è la Juve ovviamente. Era già forte all'andata, ma ora mi sembrava ulteriormente forte. Poi giochiamo a Torino. Ha giocato, se non erro, 11 partite in casa, ne ha vinte e nove e pareggiate due. Questa radice lunga sullo scorre della Juve in casa, quindi non sarà la stessa Juve dell'andata. La mia speranza è che possa essere lo stesso Sassuolo, prestativo come lo siamo stati. Mi fermo restando che per ottenere un risultato positivo contro una squadra del genere in casa loro, dove nessuno ha vinto, dove solo due hanno pareggiato, una delle due è l'Inter. Quindi la dice lunga sui grandissimi meriti della Juve in casa e la qualità che mette, non potremo basarci solo su quello che faremo noi. Devi andare là, cercare di essere quasi perfetto, perché perfetto non lo sei mai, essere prestativo e efficace con e senza palla e sperare che loro siano un pochino meno efficaci di quanto potrebbero essere. Il Sassuolo si presenta a Torino dopo aver ritrovato la vittoria, soffrendo, con la Fiorentina. Una vittoria che ha fatto bene al morale oltre che alla classifica. Ho letto le interviste dopo la partita di alcuni ragazzi, non ultima all'intervista che ha rilasciato Andrea Consigli a Noto Quotidiano. Quindi è ovvio che capisco che ha dato una bella spinta, perché venivamo da un trend di prestazioni ma risultati negativi. O comunque poco positivi, c'era stato solo un pareggio nelle partite precedenti. Quindi la partita dove, come dicevi tu, è stata una partita sporca, tra virgolette sporca, nel senso che il primo tempo è giocato bene, concedendo poco o niente. Il secondo, ci siamo abbassati, vuoi un po' le situazioni, vuoi gli episodi, contro una squadra forte che abbassa tutte le squadre della Serie A, perché la Fiorentina a un certo punto gioca nella metà campo avversaria costantemente. E la squadra si è ritrovata, si è ritrovata nella propria metà campo, si è ritrovata nel risultato. Leggendo, come ti dicevo, le interviste dei ragazzi parlano di comunque una spinta positiva, però poi so che lo vogliamo dimostrare. So che anche loro lo vogliono dimostrare, quindi dico dimostriamo quello che abbiamo detto, dimostriamo di essere migliorati. Perché poi è sempre un esame continuo e domani l'esame sarà molto molto difficile. A giro di boa della stagione sembra essersi alzato il livello rispetto all'anno scorso nella lotta per non retrocedere. L'ho notato dall'inizio della stagione, perché le squadre che sono lì con noi, se ci fate caso, in casa fanno la differenza. Quando avevo detto che giocare a Cagliari non è semplice, a Salerno non è semplice, a Genova non è semplice. E' così. E quindi chi è salito sono squadre, sono città, una squadra rappresenta una regione. Quindi si è alzato il livello della parte destra. Infatti ad oggi sicuramente pensare che la terza e ultima, 17 punti, non era così l'anno scorso. Però poi si discostano poco i punti alla fine per la quota salvezza, la quota Champions, la quota Europa, la quota parte destra e parte sinistra. Quindi poi quelle quote se le raggiungi ottieni quei risultati.